C'è una chitarra con tavola armonica in cetro, con Alessandro in piano, fascia e fondo. La particolarità è, oltre a questo pubo che vedete tutti, ed è un sound port che in inglese è appunto una spia, un ritorno del suono per il chitarrista, la particolare a me è proprio è la doppia tavola armonica che all'estero viene chiamato Davos 8. Una costruzione moderna. Davos 8. 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 Davos 9. Davos 8. Grazie. Grazie.